Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor e quest'oggi volevo farvi conoscere Stasis. Si tratta di un gioco sviluppato dalla The Brotherhood e in poche parole si tratta di un gioco di avventura fantascientifico e horror, un punto e clicca classico giocato da una prospettiva isometrica. Come dice l'autore Chris Bischoff, Stasis è una storia che racconta di una famiglia e del percorso di un uomo ordinario in una situazione straordinaria, ma il viaggio è straziante e tocca elementi profondamente inquietanti inseguendo la semplice e naturale premessa di un uomo che vuole ritrovare la propria moglie e figlia andando a comporre un'esperienza in grado di colpire e rimanere in nostra compagnia anche dopo relativamente poche ore richieste per concluderla. Il protagonista, John, si risveglia bruscamente dalla criostasi in un ambiente sconosciuto, una grande nave apparentemente deserta e disseminata di sangue, cadaveri e strutture fatiscenti che scrope chiamarsi Groom Lake e appartenere ad una corporazione molto misteriosa impegnata in attività medico-scientifiche che a quanto pare sono sfuggite di mano. Il primo pensiero di John va subito alla famiglia e qui parte immediatamente un sofferto percorso di indagine e scoperta alla ricerca della moglie e della figlia, le uniche speranze a cui l'uomo si appiglia per esistere alla follia della nave. Tutto quello che gira intorno alla Groom Lake, il perché si trova lì, dove è finita la sua famiglia e tutte le altre domande che ci poniamo già dopo questa breve analisi, sono la parte portante della trama. La storia riusciamo a capirla, a trovarla, a scoprirla solamente tramite della lettura di messaggi e log sui vari computer che troveremo in giro per la nave. Quindi saranno le nostre fonti primarie di informazioni e non saranno mai troppo esaustive, così che lasceranno ampio spazio alla nostra immaginazione. Essendo delle note non saranno mai precise, quindi gli eventi saranno visti sotto il punto di vista soggettivo di chi scrive e starà a noi cercare di unire i vari puzzle per capire cosa si cela dietro il Groom Lake. Come dicevo inizialmente, Stasis è una classica avventura punta e clicca, con una semplice gestione dell'inventario e interazioni con vari elementi dello scenario. Abbiamo pochi slot nell'inventario per gli elementi da portarsi dietro, così come pochi sono anche gli oggetti sensibili con cui potremo interagire, ovviamente tralasciando i punti descrittivi che troviamo nei vari scenari, che sono moltissimi, ne ho trovati davvero tanti. Ma questo non vuol dire che gli enigmi che ci mettono di fronte i programmatori siano di facile soluzione. Al contrario, Stasis offre una sfida veramente di alto livello, anche per gli esperti del settore, visto anche la totale mancanza di suggerimenti e consigli. Purtroppo c'è da dire che alcuni enigmi seguono una logica un po' difficile da dedurre, oppure possono cadere nel vecchio pixel hunting. Quindi dovremo stare molto attenti a quello che troveremo nei vari scenari, altrimenti saremo costretti a fare del backtracking e tornare indietro nei vari luoghi di interesse alla ricerca di qualcosa che abbiamo tralasciato. Quindi è vero, avremo dei difetti, chiamiamoli storici, che hanno un po' quasi tutte le avventure grafiche. Ma per fortuna non riescono a ledere eccessivamente il ritmo di gioco, e quindi si riesce a giocare e a seguire la trama abbastanza vincente. L'inquadratura isometrica consente di dare un buon effetto di profondità agli scenari bidimensionali, che permette anche di illustrare ambientazioni particolarmente dettagliate e una buona profondità di campo visivo. Lo stile grafico è ben curato e particolareggiato, in particolare per quanto riguarda lo studio delle luci e le ombre, in grado di dare il giusto dinamismo e taglia alle scene. Concludendo, se consideriamo le dimensioni del team e il budget stanziato, direi che la produzione è di alto livello, una vera e propria perla, anche se un po' grezza. Anche il sonoro ha un ruolo di sostegno narrativo e scenografico, marcando la progressione di John nei meandri della Groom Lake, con suoni che non fanno mai calare la tensione. Sicuramente non è un prodotto per tutti, ma è un'esperienza videoludica di grande impatto, che merita di essere vissuta in particolare da coloro che non temono di scavare un po' nei meandri morbosi e deliranti dell'ordo fantascientifico. Con questo io spero di avervi fatto capire un po' quello che c'è dietro Stasis. Il gioco costa 25 euro su Steam, ed è anche in italiano, quindi potete farci un pensierino, specie se riuscite a trovarlo ai saldi. Con questo io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video nel canale. Ciao a tutti!